Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Alert che vi parla. Siamo qua perché di recente il canale Xbox ha reso pubblico una specie di mini-intervista che hanno fatto ad alcuni sviluppatori, tra cui Kevin Drew, che vi ricordo essere il director di Zombie per Black Ops 6. Questa cosa, a quanto ho capito, è successa durante l'Xbox Showcase, ma era un pochino a porte chiuse e soltanto qualche giorno fa hanno finalmente rilasciato questa intervista ed è adesso visionabile. Ovviamente per chi vuole vederla tutta quanta la trovate in descrizione. È molto interessante perché è stata fatta a Kevin Drew alcune domande, ovviamente per Black Ops 6, anche se non ci ha dato queste informazioni così incredibili. Ha fatto un pochino un riassunto di quello che è stato fatto durante Cold War per la storia e circa come proseguirà. Però ha fatto anche dei piccoli racconti per quanto riguarda alcune vecchie creazioni e idee nel passato per zombie a partire fino a World at War, arrivando fino agli zombie attuali. Per dire, inizialmente ha detto che Zombie su World at War era una specie, diciamo, di easter egg che si scopriva una volta completata la campagna e a quel punto, dato che era tutto quanto in fase molto embrionale, letteralmente lanciavano su zombie tutto quanto. Appena avevano una minima idea interessante, la lanciavano su zombie e che funzionasse o meno, era tutto quanto comunque molto sperimentale, quindi non c'erano problematiche. Nel corso invece degli anni tra Black Ops 1, Black Ops 2 e fine Black Ops 3, hanno trovato quello che lui ha chiamato il DNA per zombie, quindi alcune cose che sono totalmente sacre e non vanno modificate e sono l'entità stessa della modalità. C'è da dire che alcune cose in seguito, per dire, con Black Ops 4 o anche Cold War, le hanno volute modificare anche lì in fase sperimentale, ma poi si sono accorti che lo stile classico è quello più efficace. Ricordiamo, per dire, su Black Ops 4 quel tentativo di rimuovere i cosiddetti Crutch Perk, ovvero i perk che si utilizzano sempre, che sia un Jug, un Revive, una Double Tap e simili, per cercare di dare molta più scelta ai giocatori, cosa che ha funzionato al 50%, o anzi per tanti player non ha funzionato, quindi ritorno al classico Jug, Revive, Speed Cola e forse Double Tap se un giorno tornerà, dovrebbe essere il metodo più classico, e appunto quello che per dire su Black Ops 3 è davvero il DNA del gioco, quello che funziona e rende efficace la modalità, anche dopo una decade praticamente. Proseguendo invece che Evin ha parlato un pochino dello sviluppo di Cold War, ha detto che per il tempo molto molto ristretto di sviluppo, hanno fatto tantissime concessioni, per cui tantissime cose che vogliono fare in maniera totalmente diversa o molto migliore, non sono riusciti a farlo. Una cosa classica che ha citato erano gli operatori, invece su Black Ops 6 ci ricorda, c'è invece una crew settata con dei personaggi, che appunto sono più legati alla storia, interagiscono tra di loro, quindi è molto più efficace per lo storytelling, e ovviamente è molto più divertente da giocare per il player, piuttosto che operatori molto anonimi. E questo secondo me è molto interessante per quanto riguarda Cold War, perché ovviamente avendo soltanto 18 mesi di sviluppo, in parte anche durante il Covid, tantissime cose non sono state fatte in maniera efficace, non c'era magari il tempo di testarle al meglio, o di renderle molto migliori, il che è sicuramente un peccato, anche se devo dire che per me Cold War, nonostante i suoi problemi, è comunque un gioco apprezzabile. Però se questo Black Ops 6 parte con le stesse aspettative, le stesse idee, ma con molto più tempo di sviluppo tranquillo ed efficace, potrebbe uscire sicuramente molto meglio. Altra storia interessante che ci vuole raccontare, è che durante lo sviluppo di Mob of the Dead su Black Ops 2, hanno deciso in maniera un pochino casuale, senza motivo, di mettere il colore rosso agli occhi degli zombie, giusto perché sembrava figo, non per un motivo particolare, ma ai tempi ovviamente tutta quanta la community è partita con le teorie, perché il colore degli occhi degli zombie indicava che li controllasse, che sia Samantha, che sia Richtofen, e in quel caso se ricordo le teorie erano tipo il diavolo o qualcosa del genere, mentre alla fine per lo sviluppo in sé della mappa, il colore rosso era messo così totalmente a caso, soltanto perché era bello da vedere. Queste cose sono veramente strane, e fa capire magari che noi come community leggiamo qualunque cosa in maniera molto profonda con un significato, mentre magari è totalmente casuale. Parlando invece di Black Ops 6, che vendriù ha citato molto l'accessibilità a questo gioco, per fare in modo che molti giocatori possano giocare al gioco, divertirsi molto e sopravvivere più a lungo, perché come dice, inizialmente il primo game potresti morire dopo due minuti, mentre più avanti ovviamente con la pratica diventi più forte, ma magari qualcosa può darti una mano. Non so cosa sia di preciso questa accessibilità particolare di cui parla, alcuni magari speculavano per le difficoltà alla Black Ops 4, ma io penso piuttosto alle Gable Gum di Black Ops 3, che non è una brutta idea, perché se qualcuno vuole utilizzarle, che siano forti o meno, può farlo per facilitarsi, mentre se qualcuno non le apprezza, vuole un gameplay un pochino più classico, può tranquillamente non farlo, come appunto era già su Black Ops 3, pensiamo a tutti i record separati in No Gum, Classic Gum e Mega Gum, tolta magari quelle bannate che sono troppo forti, ma comunque è un metodo di accessibilità ai player, che per quanto in parte è monetizzabile, è comunque un pochino più libero di utilizzarlo o meno, e che può dare una mano a chi lo vuole, o meno. In aggiunta si parla dell'Omni Movement, mostrato durante l'Xbox Showcase per Black Ops 6, che cambia sicuramente il multiplayer, ma anche per zombie, potrebbe rivoluzionare totalmente il gameplay, la possibilità di sparare e correre indietro, spostarsi di lato, sdraiarsi o cose del genere, quello è sicuramente secondo me molto più divertente, e molto più libero, per quanto riguarda come vogliamo muoverci per la mappa, e anche come gestire i nostri zombie, per dire sparare mentre corriamo all'indietro, secondo me sui zombie potrebbe essere totalmente fondamentale, e non quella problematica che magari abbiamo un gruppo enorme di zombie, ci stiamo sparando, ma mentre camminiamo insomma molto lenti, quindi altri zombie ci raggiungono, magari dei cani ci colpiscono, altri zombie che sponono ci colpiscono dall'altra parte, è un pochino un problema, mentre questo movimento molto più libero, molto più efficace, potrebbe cambiare le carte in tavola. In conclusione Kevin Drew ci dice che questo Black Ops 6, sarà la migliore iterazione di zombie da diversi anni, e che appunto lo zombie around è tornato. Qua non vorrei fare un pochino la battuta, oste com'è il vino, perché mi sembra un pochino troppo scontata, però c'è da dire che si parla tantissimo di questi anni di sviluppo, che sono stati molto efficaci, e tutto quanto il team che è molto contento e molto pronto, per mostrarci questo Black Ops 6 e farcelo giocare. Ovviamente io sono molto ottimista per quanto riguarda questo gioco, però credo che questa attesa è mostruosa, probabilmente ha dato a loro tantissimo tempo per lavorare in maniera efficace, ma ha anche alzato tantissimo le nostre aspettative. Incrociamo le dita perché se è davvero, come dice, uno dei migliori zombie around da anni, ne sarei sicuramente molto contento, e ce n'è davvero bisogno. Quindi ragazzi, questa era l'intervista a Kevin Drew, che è apparso a questo panel durante l'Xbox Showcase, in cui state fatte alcune domande, e appunto c'è dato qualche informazione per zombie nel passato, che sono comunque storie interessanti, e qualche spicchietto per quanto minuscolo, per quanto riguarda Black Ops 6. Atteniamo come sempre i rivela più grossi, che probabilmente saranno durante agosto, come anche il Call of Duty Next il 28 agosto, per molte più informazioni, e ovviamente il lancio del gioco questo 25 ottobre. Il video si conclude qui, spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Ovviamente l'intervista originale come detto all'inizio video è qui sotto in descrizione, per chi volesse ci sono anche i miei social, tra cui Instagram, Twitch e canali Discord. Noi ci vediamo come sempre, al prossimo video. Un abbraccio. Ala.